guarda quella tartaruga guarda come mangia ho letto su un libro che le tartarughe hanno il becco invece dei denti guardala sembra proprio un animale presto io leggo perché scaccia la noia partecipa anche tua io leggo perché una grande raccolta libri a favore delle biblioteche scolastiche dal 20 al 28 ottobre nelle librerie gemellate con la nostra scuola la lettura genera dipendenza apre la mente aiuta a focalizzare crea incontri e provoca amicizie produce saggezza scropositata e permette lunghi viaggi è un medicinale ma non serve consultare il medico è assumibile senza ricetta ed è indicato per tutte le età inizia ad agire velocemente per rendere la vita più affascinante